Scusate, mi si è riavviato il pc e mi si è bloccato il video, poco male così per tutti coloro che sono interessati alla griglia di valutazione dei concorsi, continuo a spiegarla. Allora, poi altri cinque punti che sono tanti, anche qui insomma vi avevo detto che sarebbe stato fondamentale questo aspetto, la padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche e prima erano competenze didattico-disciplinari, quindi competenze didattico-metodologiche. Allora, state bene attenti perché anche qui dovrete, cioè cinque punti sono veramente tanti, cioè essenzialmente un terzo, un terzo, un terzo è formato da questo che vi dico, ovviamente un terzo, un terzo, un terzo del punteggio totale. Allora, si tratta di conoscenze e competenze trasversali. E vi ricordo, come detto in altri video, che l'approccio costruttivista e cognitivista del sapere afferma che il docente è il facilitatore ed animatore di contesti di apprendimento. Quindi, facilitare, dimostrare di saper facilitare l'apprendimento. Quindi, non bisogna limitarsi alla trasmissione di contenuti, ma bisogna attivare i saperi impliciti degli alunni e assecondare lo sviluppo naturale delle loro intelligenze. Quindi, potete anche fare un richiamo a questo, spentatucco, l'insegnante, conoscere e utilizzare metodologie didattiche aggiornate e attive, centrate sull'apprendimento più che sull'insegnamento. Anche qui, il punteggio zero, quesito non svolto, nessuna padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche. Voto 5, trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e o approfondite. Altri, tra zero e cinque punti, qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica. Qualità espositiva e correttezza linguistica. Quindi, vedranno linguistica anche le virgole, vedranno come utilizzate, come componete le varie proposizioni. Vi consiglio di non scrivere frasi troppo lunghe, usate quindi la punteggiatura giusta. Ovviamente usate le parole, i verbi, gli aggettivi, gli accenti, metteteli nel modo corretto, perché è probabile che all'interno della commissione ci sia anche un insegnante di lettere, e il massimo punteggio è sempre 5. Quindi, voi potrete prendere per ogni quesito 15 punti, per 5 quesiti fa il totale che vi avevo detto precedentemente di 75 punti. Vediamo adesso per quanto riguarda la griglia di valutazione del quesito in lingua inglese. Le classi di concorso sono le medesime delle precedenti, A008, A009, A016, A033. A si è aggiunta anche la 033, la 042, la B006 e B015. Quindi la 033, ve la scrivo. Forse l'ho dimenticata prima? Sì, l'ho dimenticata prima, vi chiedo scusa. Allora, per quanto riguarda l'inglese, vi è solo un indicatore, l'indicatore è unico, gli indicatori erano essenzialmente quelli che vi ho detto prima, la conoscenza, la competenza disciplinare, la conoscenza e competenza didattico-metologica e la qualità dell'esposizione. Qua l'indicatore è semplicemente la comprensione del testo. Ci sono cinque domande e il punteggio per ognuna di esse va da 0, non comprende il testo, a il massimo di un punto, quindi vedete come vale molto di meno la domanda in inglese, comprende in maniera completa. completamente mettiamo. Quindi, alla fine di questo video, io desidero veramente fare un grandissimo in bocca al lupo per tutti gli insegnanti che si accingeranno domani o nei prossimi giorni ad affrontare questo concorso. avete dovuto aspettare tanti anni. Come detto in tanti video, non è una fase facile, sicuramente vi ricorderete probabilmente per tutta la vita la data del vostro concorso, però c'è da dire che, insomma, non dovete fare la prova preselettiva e questo secondo me già è una grande opportunità. Bisogna cercare, secondo me, di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Comprendo tutte le persone che mi hanno mandato email, messaggi o a che hanno commentato e che magari non si trovano al meglio o in pieno accordo con le decisioni che sono state prese relativamente alla scuola. Però, purtroppo, siamo noi che in questo caso ci dobbiamo adattare e dobbiamo cercare di riuscire a prendere il massimo considerando, insomma, quali sono i nostri obiettivi di vita e i nostri obiettivi lavorativi. Sicuramente insegnare può essere uno dei lavori più belli del mondo e per chi condivide questo pensiero con me io spero veramente che tutto possa andare per il meglio. Forza, forza, forza e al prossimo video.